Con il sistema che abbiamo noi usiamo due tipi di idrofoni. Il primo idrofono è un idrofono onnidirezionale che ci permette di trovare l'animale. Quando poi sappiamo che c'è il capodoglio, se questo capodoglio clicca e emette dei suoni in modo regolare, allora mettiamo in acqua un altro idrofono che è schermato come è schermato dall'orecchio di un cetaceo, quindi è unidirezionale e in quel modo riusciamo a capire in che direzione rispetto alla nostra barca è il capodoglio. A quel punto cominciamo a avvicinarci e quando sentiamo che i suoni arrivano comunque da tutte le parti, e quindi anche nell'unidirezionale vuol dire che ce l'abbiamo proprio sotto. E quando lui finisce di cliccare, sei minuti dopo emerge. Alla prossima! Eccola, eccola! Vai, vai! Wow, che meraviglia!